Questa nostra campagna dei 3.000 iscritti lo abbiamo ripetuto spesso, soprattutto questo obiettivo ambizioso di avere 3.000 iscritti quando, non dico nella storia, perché nella storia del Partito Radicale, delle campagne di iscrizione, ci siamo posti anche obiettivo dei 6.000, dei 10.000, dei 30.000 iscritti che poi sono stati raggiunti. Ma se ci riferiamo agli ultimi anni, noi non abbiamo mai avuto 3.000 iscritti, siamo stati al massimo 1.000 e quindi triplicare il numero delle iscrizioni è difficile, è un obiettivo ambizioso. Addirittura qualcuno pensa e dice che noi ci siamo posti l'obiettivo dei 3.000 iscritti in realtà per non raggiungerlo e in tal modo chiudere il Partito Radicale. La mozione di Re Bibbia effettivamente dice questo, 3.000 iscritti oppure attivare le procedure di liquidazione del Partito Radicale. Questo è il mandato della mozione di Re Bibbia, oltre agli obiettivi, Stati Uniti d'Europa, giustizia giusta, diritto umano alla conoscenza. Io credo che noi smentiremo, non so se definirli, furbetti, gufi, coloro i quali dicono vabbè voi avete posto 3.000 iscritti perché in realtà lo volete liquidare il Partito Radicale. E' il contrario. 3.000 iscritti significa rilanciarlo, farlo vivere, rifondarlo, il Partito Radicale. E io credo che noi ce la faremo. Ma non solo ce la faremo perché raggiungeremo i 3.000 iscritti, perché avremo nei 3.000 iscritti presenti tutti i connotati del Partito Radicale. Quelli per cui noi riteniamo dover continuare la missione iniziata da Marco Pannella. Marco Pannella a un certo punto della sua vita decide di trasformare un Partito Radicale, che certo non è mai stato italiano, però si presentava alle elezioni in Italia, di cambiare statuto, forma partito, e di convertirlo in un Partito, oltre che non violento, che è sempre stato, trasnazionale e transpartito. Ebbene, questi connotati del Partito Radicale, che erano i connotati poi della vita di Marco Pannella, il dar corpo con la non violenza, gli obiettivi di lotta politica, l'avere la dimensione trasnazionale come dimensione della lotta politica, nella quale soltanto si potevano, per tutte le interrelazioni che ci sono, interdipendenzi, per cui i muri, quando anche li edificassimo, verrebbero travolti dalle urgenze, dalle emergenze, dalle grandi questioni sociali del nostro tempo. E poi, traspartito, non negare il dialogo con nessuno, includere, tenere insieme le persone. Ecco, questo è il Partito Radicale che io amo, questo è il Partito Radicale che io voglio che viva. I 3.000 iscritti, secondo me, saranno la fotografia di questi tre connotati. Certo, ci saranno un migliaio di italiani, forse di più. Certo, ci saranno persone, gli ultimi in Italia, cioè quelli a cui è negata giustizia, quelli fuori dalla possibilità di concepire il proprio futuro, di avere speranza e noi li stiamo convertendo all'essere speranza. Penso soprattutto agli ergastolani di Opera, di Voghera, di Parma, di Rebibbia, di Secondigliano, di Oristano, dove siamo andati ad incontrare, insieme a tutti i detenuti e agli operatori penitenziari a presentare il docufilm spesso e contraspermio, il più forse antico tra i detenuti iscritto al Partito Radicale. Domenico Papalia, che non ha mancato anno, se non per colpa nostra, perché non abbiamo mandato il bollettino di iscrizione, a iscriversi al Partito Radicale, e poi a Sulmona. Ci saranno anche loro. Benvengano gli ergastolani, benvengano i detenuti. Ci saranno molti avvocati, con i quali stiamo collaborando nella campagna di raccolta firme. E ci saranno anche gli iscritti non italiani, cioè iscritti testimonianza di impegni del Partito Radicale storici. Penso al Vietnam, penso ai Montagnar, penso alla Cambogia, al Tibet, al grande dialogo tra Marco Pannella e il Dalai Lama, all'Iran, alla resistenza iraniana, che è resistenza democratica, per unirano a libero, laico, eccetera. E poi agli altri fronti del transnazionale. Ecco, questo è il Partito Radicale che io credo nascerà il 31 dicembre con i 3.000 iscritti.